Buongiorno a tutti i partecipanti, vi diamo il benvenuto alla Sassizza Cup, vi auguriamo buon vento e vi ricordo che tra le 10.30 i primi a partire saranno Pura Follia e Dulcamara. Perfetto, grazie. 58, 59, 25. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 60. Guarda che belle partenze che hanno fatto. 10.35 parte Astreo. 10.35 parte Astreo. 160, 60, 75, 86, … 61, demecare. Sì, sì. Ora, devi dare. Andiamo, andiamo. Grazie a tutti. 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 trent'anni, nel porto piccolo di Siracusa, senza scopo di lucro, tenendo quattro regate l'anno. Questa è una della più sentita, anche il nome è caratteristico, Sassizza Cap, perché alla fine della regata poi tra amici ci si diverte e si fa la grande rostita di Sassiccia, di carne eccetera eccetera, e si conclude così questa giornata splendida di solito. Vabbè, gliela fa perché ora stronzano i piedi dentro, si, 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 hai visto? Questo è il quattro rapporto molto bene C'è parte la ricette della Grazie a tutti. 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 Che siamo? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.